Ciao a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vali. Oggi vi voglio fare un video un po' insolito, un breve video, perché sapete da poco ho ricominciato a fare borse e io mi faccio tutte le mie patelle, i miei inserti in pelle da sola e non avendo la macchina da cucire, ho iniziato a cucire a mano i miei pezzi e devo dire che mi vengono benissimo, meglio che a macchina. E quindi vi voglio far vedere brevemente come si cuce la pelle, almeno il mio metodo. So che ci sono tanti altri metodi, ma il mio metodo è semplice e veloce. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Principalmente abbiamo bisogno di questi due attrezzi qua, che questo serve per fare i buchi. Noi mettiamo, ci facciamo il segno, la distanza, mettiamo in questo modo e diamo una botta con questo martello in plastica, ma è molto pesante, serve appunto per fare, per usare con questi attrezzi qua. Avete bisogno di una base sotto perché altrimenti andate a punzare la tavola, come è successo a me. E fate tutti i buchi. Vedete questa è una tracolla, un pezzo di tracolla che andrò a cucire, poi verrà chiusa così. Quando poi è finita la borsa, la sto facendo ora, vi faccio vedere finita. Comunque, dicevamo, quindi io adesso vi faccio vedere come cucire. Io uso questo filo, è un filo grosso da pelle, perché sottile diciamo non esalta, non si vede tanto, quindi invece a me piace che la cucitura si veda. Quindi io prendo, oggi vi faccio vedere, cuciamo questa tracolla e prendo un po' di filo. In genere si dovrebbe prendere abbastanza lungo in modo da non fare, diciamo, altri attacchi con nudi e quant'altro. Però siccome è un pezzo lungo, purtroppo mi sa che dovrò fare anche le giunte. Io prendo un ago, ho questa dimensione qui con la punta rotondata. Vedete, io prendo questo perché comunque passa bene il filo e vi faccio vedere subito come fare. Quindi taglio il mio filo, infiliamo e inizio con la parte questa, perché qui andrò a fissarlo poi insieme in modo da fare questa asolina qui. Quindi inizio da qua. Iniziamo a inserire l'ago, quindi io faccio oddio, scusate, non deve passare il filo in questo modo. Tenete il filo dietro un po' una codina e iniziate a cucire in questo modo. Uno dietro. In questo caso devo fermare un po' il filo, ma diciamo che siccome devo tornare indietro lo fermerò alla fine tutti insieme. Quindi iniziamo, andiamo qui, poi da sotto ci inseriamo nel buco, nell'altro buco e vado avanti. In questo modo, state attenti che il filo dietro non si annodi e continuiamo la nostra cucitura. Scusate, avanti, così, vedete? Poi vado qui. Come vedete rimangono distanziati i punti, ma non devono essere così. Poi vi faccio vedere il perché. Quando abbiamo finito vedrete che viene una bellissima cucitura, è tutta perfetta, perché noi abbiamo fatto i buchi che questi sono tutti uguali e questi mi sembra che siano da 4 mm, se non sbaglio, perché ce ne sono di diversi tipi di questi punzoni. Quindi, quando facciamo i buchi che sono tutti perfetti, la cucitura viene perfetta. Io adesso continuo così fino alla fine e poi vi faccio vedere come rincominciare il lavoro. Ok? Ora chiudo e ci vediamo dopo. Ok. Allora, una parte io l'ho cucita, perché dovremmo fare in due parti separate, perché come ho detto qui lo cuccio in ultimo quando andrò a prendere tutti e due i pezzi. Quindi qui adesso dobbiamo tornare indietro per fare una cucitura bellissima. Allora, se vedete abbiamo questi spazi, noi dobbiamo riempire questi. Quindi cosa facciamo? l'ultimo punto, torniamo indietro, voltiamo il pezzo e andiamo a infilarci in questo buco qua. Così. Poi al dritto, vedete che abbiamo lo spazio qua, andiamo a infilarci qui. Così. Vedete? È stessa cosa da quest'altra parte. Andiamo a infilare l'ago qua, vedete? Qui. Portiamo giù. Siamo attenti a non fare i nudini. Così. All'al dritto infiliamo in questo buco qua. Vedete come viene bella la cucitura? Sia da una parte che dall'altra. Mentre con la macchina quando si cuce il sotto viene brutto. Lo so perché io facevo i portafogli e cucivo la pelle. Fatta a mano la cucitura è perfetta. Io in molti casi ho visto anche che hanno cucito borse intere a mano. Lo farò anch'io in un altro video. Sto aspettando che mi arrivi diciamo il kit che ho preso da Pandal che poi vi farò un video e vi farò vedere come fare proprio una borsa in pelle totalmente cucita a mano. Si fa prima che fare le borse a uncinetto come faccio io. Cucita a mano in un giorno te la fai mentre a uncinetto no. Comunque bando alle ciance. Io adesso faccio tutto il pezzo e poi vi faccio vedere al lavoro ultimato. Comunque vedete? Viene bellissima la cucitura. Ok? Stiamo arrivando alla fine della della prima cucitura. Vi faccio vedere come faccio e si ferma il filo. Sto facendo le ultime. Questa è l'ultima. Vedete? Siamo arrivati alla fine. Vedete? Quindi inserisco l'ago qua, ripasso qua, ripasso qui e rifaccio tutto il giro per 3 o 4 punti. In questo modo vedete? Così. ritorno indietro e faccio il mio punto. Così e così. E porto il filo tutte e due da questa parte qua. Vedete? Ora non faccio il nodino perché non sta bene quindi ma abbiamo già fermato. Vedete? Vedete com'è la cucitura bella perfetta anche dietro e davanti? E poi volete mettere una borsa cucita a mano e una borsa cucita a macchina? Dà tutta un'altra soddisfazione perché avete veramente fatto tutto voi. Io come dico io le mie patelle, la mia pelle me la taglio me la taglio da sola poi incollo i pezzi col mastice e sono tutti in pelle vera. Vedete? Guardate. Vedete? Com'è bella sta cucitura? cosa che con la macchina da cucita non viene così. Ora andrò a fare anche l'altra parte e poi dopo vi faccio vedere tutti e due i pezzi finite. Questa è la mia patellona che è una patella che viene così e poi qua verrà la sua chiusura. Vedete? Bene. Adesso vi faccio vedere a lavoro ultimato e poi ci salutiamo. Bene. Io ho finito tutti e due i pezzi. Vedete? Guardate la patella cucita dietro. Vedete? perfetta. Perfetta. E il manico. Guardate. Come detto ho rimasto qui perché dovrò andare a inserire non so se metterci una catena o non so. Lo deciderò dopo. Quindi vedete? È semplicissimo, è facile, è veloce perché io ci ho messo circa mezz'ora, 35 minuti per cucire questi due pezzi qui. E niente, io come ho detto a breve mi arriverà il kit e vi farò vedere come cucire, fare una borsa da zero cucita a mano. Poi ho anche un'altra novità. A breve inizierò un'altra collaborazione con un sito di merceria e vi farò vedere anche come faccio io le borse a uncinetto perché loro hanno molte cose per le borse ma è anche una merceria fornitissima di altre cose. Comunque detto questo io spero di esservi stata utile. se il video vi è piaciuto mettete il pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per avere i nuovi aggiornamenti dei video che inserirò. Niente, detto questo io vi saluto e ciao alla prossima!